Un saluto cari amici e amiche di Scambiavolmente, soprattutto un saluto ancora più forte a tutti gli amici e gli scrittori che hanno partecipato alla prima edizione del concorso letterario per racconti gialli Un esordio con delitto, ideato da Francesco Scenè e Lucio Schina e appoggiato al 100% da Scambiavolmente. Ho la lista, finalmente ci siamo, ho la lista definitiva, io vi leggerò i dodici racconti più uno in ordine casuale e ovviamente vi leggerò i primi tre con annesso e il vincitore. Perché sono dodici più uno e non dieci? Sono dodici perché tre racconti sono arrivati ex equo e meritano tutti e tre l'inserimento nell'antologia di questi racconti gialli che Francesco e Lucio produrranno Nell'imminente futuro più un racconto molto bello ha una menzione speciale e poi vi dirò assolutamente il perché. Quindi parto con leggere la lista in ordine assolutamente casuale e poi vi leggerò i vincitori e il tredicesimo racconto che ha una menzione speciale. Allora comincio assolutamente ordine casuale. Il cane da slitta Una nuova indagine di Toni Costello Autore Anonymous Ombra rossa Autrice Elena Zeni Il gangster e la pupa Autore Giuseppe Armenio Cuore di mamma Autrice Gabriella Iacono Andata e ritorno Sandro Dettori Il patto dei lupi Francesca D'Andrea Il demone della pioggia Andrea De Sabatino La trilogia dei cent'anni Elisabetta Imperato Ragazze Mike Papa Ora vi leggo prima del momento più alto dove leggerò i vincitori il podio vi voglio comunicare una menzione speciale alla banalità del femminicidio di Viviana Perotti Il racconto sarà pubblicato assieme ai dodici classificati per il particolare argomento e la profonda sensibilità e cura dello stile utilizzato Assolutamente io non l'ho letto ma Francesco e Lucio hanno ritenuto giusto così e direi dal titolo ci sono due parole attualissime chiave banalità e femminicidio Quindi brava complimenti a Viviana Perotti per essere entrata in questa antologia di racconti gialli e per il tema e la sensibilità avuta e il tema trattato Allora il podio di un esordio con delitto prima edizione Vi ricordo che ci sarà una diretta nell'imminente futuro Non so ancora quantificare ma la faremo apposta con i tre classificati Quindi chi entra nel podio ha una diretta con me per raccontarsi, per promuoversi Per raccontare un po' come ha vissuto la scrittura e la partecipazione a un esordio con delitto Ci raccontranno anche chi sono, ci raccontranno che progetti hanno, questi tre scrittori E avranno uno spazio per loro Io dialogherò con loro e darò tutto lo spazio che necessiteranno Ok, podio Al terzo posto si è classificato delitto nell'ascensore di Luca Laurenzi Al secondo posto si è classificato a Remi Paolo Chionni E vince la prima edizione del concorso letterale per racconti gialli Un esordio con delitto L'incarico di Giorgio Marconi a cui vanno i miei complimenti assolutamente Bene, l'antologia sulle tempisti che avranno comunicate sui canali di Lucio Schinna e Francesco Scenè E poi organizzeremo con i primi tre una diretta dove conoscerò Giorgio Marconi, Paolo Chionni e Luca Laurenzi E avrò modo di approfondire la loro scrittura, i loro pensieri e la personalità di questi tre scrittori Complimenti, il concorso è stato molto molto bene C'è stata molta partecipazione E quando ci sarà una seconda edizione l'appoggio di Schemevolmente sarà assolutamente ancora totale Ancora complimenti a Giorgio Marconi L'incarico vince il concorso un esordio con delitto A presto!